Amici Rossoneri amanti del calcio, un saluto da Luca Zed. Si è conclusa da poco la partita Udinese-Mila, è una partita sinceramente che mi viene difficile da commentare. Vengono in mio soccorso un po' le statistiche che dicono che abbiamo fatto 12 tiri, di cui uno in porta. Siamo stati praticamente 74 minuti sotto di un gol, Neto ha segnato al diciassettesimo e poi è stata tutta una partita in salita. Una partita senza grinta, senza personalità, tra l'altro una squadra messa in campo veramente che non mi è piaciuta per niente, sembravano tutti morti del sonno, fra tutti Bakayoko, Ben Asser, anche nel primo tempo Ibrahimovic e Tio Hernandez sono veramente deluso, tiri in alto, tiri fuori, insomma una cosa inesistente, un gioco inesistente. Quindi una formazione veramente che mi ha fatto venire, è stata una formazione raccapricciante, tutto qui. Poi nel secondo tempo, quando sono entrati Messias, più che altro Messias che ha fatto vedere qualcosa, perché gli altri, vabbè, insomma, Castiglieco cosa può fare. Anche Diaz ha fatto così, ha fatto cagare per usare un eufemismo. E, boh, forse è stanco, forse magari abbiamo sentito il contraccolpo dell'eliminazione dell'Europa, sta di fatto che, insomma, è stata una partita un po' così. Sinceramente non si può stare più di 70 minuti sotto di un gol con l'Udinese, che tra l'altro era anche reinduce dal cambio di allenatore, per cui è una situazione non troppo positiva, ecco. Riusciamo fortunatamente, con una magia del grande Zlatan, che fa 300, riusciamo a portarci a casa a questo punto, perché, ragazzi, questo è un punto guadagnato, ovviamente. meno male che almeno un punticino ce lo riusciamo a, insomma, a prendere. Che però, voglio dire, ci lascia in una situazione di classifica abbastanza brutta, perché il Napoli, se vince, ci raggiunge a parità di punti, mentre, ahimè, l'Inter, se dovesse vincere contro il Cagliari, cosa, insomma, abbastanza scontata, ci supererebbe di due punti, se non sbaglio, e lì, insomma, si fa, o di un punto, perché adesso noi siamo a 39, loro sono a 38, sì, di due punti. Male, male, molto male, speriamo che, insomma, ci sia una reazione, una reazione positiva, e che non mandiamo tutto a puttane, perché di questo si tratta, di mandare tutto a puttane, perché se cominciamo così, adesso che non abbiamo più neanche Europa, se cominciamo a perdere anche in campionato, vabbè, tanti saluti. Purtroppo, spezzando un'ansia a favore della prestazione, abbiamo un sacco di assenze, Kier si fa sentire tantissimo, la sua mancanza, poi stasera sarebbe, cioè, è mancato tantissimo l'Eau, magari con i suoi guizzi, con la sua capacità nel saltare Romo, saremmo riusciti ad arrivare davanti al portiere un po' più spesso, e magari mettere Ibrahim invece nelle condizioni di segnare ancora. Un punto guadagnato, ragazzi, un punto guadagnato, non va bene, ma meglio che la sconfitta che già stavo assaporando, sentivo già la mare in bocca per un'eventuale sconfitta, meno male che è un bel gol in rovesciata, semi rovesciata, di Ibrahim invece ci ha regalato un punticino. Non so io adesso la formazione di partenza da cosa sia dovuta, perché veramente non sembrava neanche il Milan, è una cosa veramente raccapricciante, l'unico termine che mi viene è una formazione raccapricciante. Va bene, dai, speriamo che sia uno dei pochi inciampi e che dalla prossima volta, che tra l'altro la prossima volta c'è pure il Napoli, figuriamoci. Quindi speriamo che la prossima volta abbiano un altro piglio, che magari recuperiamo qualcuno degli infortunati, perché con il Napoli, insomma, se facciamo 74 minuti sotto di un gol con l'Udinese, non lo so pensare cosa faremo con il Napoli, se giochiamo così ovviamente. Se giochiamo da Milan come siamo abituati, forse riusciamo a battere anche il Napoli. Bene ragazzi, deluso a metà, io vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciare un like e commentate, così capisco la sensazione di tutti voi e la vostra opinione ovviamente. Da Luca Zed è tutto, vi auguro una buonanotte, al prossimo video. Ciao!